Niente musica all'esterno dei locali a sporto di bevande nei giorni delle feste natalizie lo ha deciso il Comune di Bari per limitare tutte le condizioni che possano incidere negativamente sulla sicurezza dei cittadini, spiega l'amministrazione comunale in una nota in cui si annunciano le nuove restrizioni attive per il giorno della vigilia, da sempre dedicata agli aperitivi pre-Cenone e per le giornate del 30 e 31 dicembre. L'ordinanza che il sindaco Antonio De Caro ha firmato quindi vieta la diffusione di musica dal vivo e non dal vivo all'esterno compresi gli spazi antistanti, de or inclusi, degli esercizi pubblici e delle attività commerciali. Inoltre è previsto il divieto di somministrazione per asporto di bevande in bottiglie o contenitore in vetro nonché lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante se non formalmente già autorizzata. A vigilare sul comportamento dei cittadini sarà in questi fine settimana di festività la polizia locale e le altre forze di polizia che potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dall'ordinanza.